Una vittoria dove c'erano in palio dei punti importanti, l'avevo detto, la partita è stata caricata tanto. Queste sono gare dove alla fine conta portare via il risultato perché per noi ci permette ora di affrontare queste altre due gare in pochi giorni con uno spirito comunque importante e positivo. Non si è fatto niente perché siamo tutti lì e quindi i giochi sono tutti aperti, quindi c'è da recuperare velocemente le energie per affrontare questa partita martedì. Siamo stati un po' sporchi nella giocata, c'era frenesia, c'era pressione. Noi dobbiamo anche un pochino scrollarci di dosso questo perché poi quando la squadra riesce a trovare quello che ha sempre fatto e che sa fare e mettiamo in difficoltà l'avversario, è chiaro che sapevamo che loro sono una squadra fisica, una squadra che potevano portare dell'avemenza in campo e gli abbiamo concesso credo poco e abbiamo creato i presupposti anche per far gol. Sono stato qua, sono stato bene, ho dato tutto me stesso, purtroppo a volte non si raccoglie quello che si semina e quindi sono un pochino dispiaciuto ma so che nella nostra professione questo fa parte del gioco quindi io sono stato a testa alta in campo perché non ho niente contro i miei ex calciatori. Né da riproverarsi? No, assolutamente. Perché io preferisco, no? Poi giudizio, l'anno scorso ho fatto un campionato con sei usordienti, 60 punti e portando anche dei soldi nelle casse della società perché giocavano i giovani.